buongiorno signori io sono mr lul e questo è un video importante e super flash ma prima di iniziare voglio ringraziare tutti tutti voi per l'incredibile supporto che mi avete dato anche in questo mese di agosto ma adesso sigla sognavo di dirlo da qui in avanti ci saranno dei cambiamenti ma che dico cambiamenti miglioramenti infatti in tutti i prossimi video dopo aver trattato l'argomento il tema specifico alla fine naturale del nostro episodio andrò ad inserire una nuova rubrica domande e risposte anzi sto anche pensando a come chiamarla tipo mr lul risponde ma si accettano suggerimenti fatemi sapere qui sotto quindi ogni giorno raccoglierò i commenti le domande le riflessioni più rilevanti interessanti frequenti o anche quelle più divertenti che mi avete inviato nel video precedente e risponderò all'interno del video successivo mostrando proprio a schermo il vostro commento quindi prepariamoci per questo nuovo esperimento bizzarritevi con i commenti così da darmi sempre materiale fresco da commentare e a cui rispondere inizierò proprio dal video che arriverà tra poco per suggerimenti e altro ovviamente vi aspetto qui sotto nei commenti un saluto a tutti da mr lul ovviamente vi aspetto qui sono stati e il vostro commento è stato fatto per suggerimenti e